Noi dobbiamo essere concentrati per tutti i 90 minuti, ci sarà un'atmosfera un tipo bello soprattutto per loro perché comunque sono un passo dalla promozione di Sardegna. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime 5 partite che mancano partendo già da Sardegna. Io penso a ottenere queste 5 partite che mancano nel mio ordine di modi sia per me che per la squadra poi ci sono pure i playoff da giocare e quello che succederà a fine campionato poi si potrà in essere.